E' arrivato il grande giorno anche per le palestre. Finalmente si riparte qui alla Big Gym di Pesaro, una delle più grandi del centro Italia. Il primo cliente è arrivato questa mattina alle 6. Attrezzi sanificati e lucidi, spogliatoi pronti per l'uso, anche se fare la doccia sarà vietato. E l'emozione del primo giorno in palestra. Oggi in tanti sono tornati a sudare dopo sette lunghi mesi di pausa. Chiuse dall'ottobre scorso le palestre per via del decreto riaperture hanno potuto riaprire i battenti soltanto oggi. Difficile contenere l'euforia per i clienti alle prese con gli attrezzi già dalle prime ore di questa mattina. Non ne potevo più, mi allenavo nel garage, un po' al campo sportivo, però la palestra è diversa, ci sono le macchine, poi comunque c'è un po' di comunità, non stanno sempre da sola. Benissimo, è come tornare a casa. Dopo sette mesi lei era una cliente storica? Abbastanza, dai, abbastanza, sì, sì, sì. Quindi dai, adesso si riparte, speriamo. Gli spazi e le attività all'interno saranno organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno due metri tra le persone, come prevede lo stesso decreto. Un rientro, quello di oggi, partito meglio del previsto, come raccontano gli stessi titolari delle palestre. Questa palestra tra l'altro si è dotata anche di sanificatori per i politici. Abbiamo comprate sei che ho messo tutte nelle varie sale così, che depurano l'aria, germi, batteri, così. Quando arrivano dobbiamo prendergli la temperatura, poi ci hanno i vari gel. Anche se di norma a luglio-agosto c'è un calo, ma io penso che andranno oltre quest'anno perché la voglia è molta. Darete la possibilità di recuperare chi aveva già gli abbonamenti attivi? Abbiamo già iniziato. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se la gente adesso ha bisogno un pochino di tempo per riprendere. Il fatto che siamo stati chiusi per tanto tempo, insomma, invogli ancora la gente a venire per anche in mesi un pochino più caldi. I vecchi clienti darete la possibilità di recuperare gli abbonamenti che avevano già attivato? Ovviamente è compatibile con la nostra situazione perché dopo sette mesi di chiusura, insomma, anche noi siamo arrivati alla canna del gas, come si dice. Per cui, insomma, noi vi veniamo incontro, però anche loro devono venirci incontro, capire che, insomma, se stiamo altri mesi aperti senza incassare una lira, per noi è veramente complicato. Adrenalina in campo anche per gli appassionati degli sport da combattimento, come il kickboxing. Manteniamo degli spazi, come vedete la sala è molto grande, quindi noi abbiamo già predisposto delle zone colorate, differenti, dove i ragazzi si possono allenare da soli. E per gli agonisti, quindi per chi ha fatto un certificato agonistico iscritto a una federazione ufficiale che fa gare, chiaramente c'è la possibilità di fare del contatto fisico, chiaramente scrivendo le coppie, nominativi, tutto comunque molto rigido. Grazie. Grazie.